Stiamo attraversando il sistema penitenziario allo sbando, siamo in stato di emergenza totale. Gli eventi che sono successi anche l'altro ieri pomeriggio, un'aggressione, perché un semplice collega ha chiesto al detenuto di proteggersi, perché dire di indossare la mascherina, e lui ha reagito in modo malvesto, violento, perché tanto da creare le lesioni a 10 giorni, il collega è stato accompagnato all'ospedale con una pochina di 10 giorni, fa capire oggi la tensione che c'è dentro il carcere. Un'emergenza continua, noi siamo senza strumenti, senza menzi. C'è uno sbando totale del sistema penitenziario, noi abbiamo bisogno di mezzi. Recentemente abbiamo fatto un comunicato, io la CISD insieme ad altre sighe sindacali, che se non si attenevano i risultati concreti, perché il personale fa turni massacranti, più di 12 ore, contro la norma, qua parliamo di tutela, di diritti, oggi il percetto penitenziario è sotto stress continuo. Si parla di lavoro continuo, cioè traduzioni senza scorta, mezzi fatiscenti. Quindi la situazione è in piena emergenza e vogliamo, e qui il grido d'allarme, d'aiuto, che ho espresso anche ad altri colleghi nella partecipazione in questo congresso, è di supportare questa federazione, perché ha difficoltà nella gestione complessiva. Quindi noi siamo in una situazione di emergenza. Il governo, invece di fare e andare in realtà, deve avere fatti concreti, noi vogliamo più mezzi, scorrimento, c'è un mezzo veloce, lo scorrimento del gradatore dei concorsi precedenti, ce lo terebbe tantissimo. Oggi noi in Sicilia abbiamo una carenza di 850 unità. A fronte di una capienza di spettos e detenuti, se abbiamo un soffrallamento dei detenuti. Quindi lei si può comprendere come oggi lavora un poliziotto potenziale. Grazie a tutti.